Grazie a tutti. Nella puntata precedente abbiamo continuato la lettura commentata della Bolla Monificentissimus Deus affrontando e quindi sviscerando il pensiero dei padri della Chiesa, soprattutto del grande San Giovanni Damasceno e dei teologi successivi, in particolare i grandi teologi scolastici medievali, Sant'Alberto Magno, Sant'Ommaso e San Bonaventura. Rimanendo ci da adesso completare questo iter teologico per giungere poi alla formulazione dogmatica di Papa Pio XII. La Bolla continua con una rassegna degli autori rilevanti del XV secolo, altro epoca aurea della tarda scolastica, e poi passando in rassegna anche il pensiero di alcuni autori e dottori più recenti, tra cui vedremo citati San Francesco di Salle, Sant'Alfonso Maria dei Liguori, San Pietro Canisio, insomma grossi colossi del pensiero teologico, soprattutto qui italiano, più moderno. E poi vedremo che Pio XII fa riferimento alla saga scrittura e quindi prima di passare alla definizione dogmatica vedremo anche i brani della saga scrittura a cui fa almeno implicito riferimento il dogma dell'assunzione. Bene, questo è un po' il rullino di marcia di quello che ci resta da fare. Cominciamo subito riprendendo e proseguendo la lettura della Bolla, dal paragrafo che appunto parla degli scrittori scolastici del XV secolo. Nella tarda scolastica, ossia nel secolo XV, San Bernardino da Siena, riassumendo e di nuovo trattando con dirigenza ciò che i teologi del Medioevo avevano detto e discusso a tal proposito, non si restrinse a riportare le principali considerazioni già proposte da dottori precedenti, ma ne aggiunse altre. La somiglianza, cioè della Divina Madre col Figlio Divino, quanto alla nobiltà e dignità dell'anima e del corpo, per cui non si può pensare che la Celeste Regina sia separata dal Re dei Cieli, esige apertamente che Maria non debba essere se non dove è Cristo. Inoltre è ragionevole e conveniente che si trovino già glorificati in cielo l'anima e il corpo come dell'uomo, così anche della donna. Infine, il fatto che la Chiesa non ha mai cercato e proposto alla venerazione dei fedeli le reliquie corporee della Beata Vergine fornisce un argomento che si può dire quasi una riprova sensibile. Ecco, ci fermiamo su questo grandissimo santo, San Bernardino da Siena, tra l'altro il suo in cui corpo era sepolto, credo che ce lo abbiano riportato tuttora all'Aquila, in una bellissima chiesa, purtroppo anch'essa è travolta dai tragici eventi del terremoto. San Bernardino da Siena era devotissimo del santo nome di Gesù, lo predicava dovunque, Francescano, ma era anche, come vediamo qui, devotissimo della Madonna. Sono molto interessanti questi argomenti che propone, sono argomenti nuovi, quindi ulteriore motivazioni che supportano la convenienza dell'assunzione di Maria Santissima al Cielo in corpo e anima. Quindi, dice, la somiglianza della Divina Madre col Figlio Divino quanto alla nobiltà e dignità dell'anima e del corpo, cioè la Maria assomiglia in tutto a Gesù, ne è, potremmo dire, la copia vivente, anche quanto alle fattezze fisiche. Cioè, ciò che Gesù è di natura, questo era un antico adagio dei teologi mariani o dei mariologi, la Madonna non lo è per grazia. Certo, la distanza che c'è tra Gesù Cristo e la Madonna è infinita, perché Gesù Cristo è il figlio di Dio fatto uomo, quindi è Dio. Quindi ha un grado di essere infinitamente superiore a quello che è la Madonna in quanto la Madonna è pura creatura. Quindi questa è la prima cosa sempre da ricordare. Ma ciò detto, quindi ciò detto e premesso come parte preliminare e integrante di quanto segue, la somiglianza di Maria Santissima con Gesù è immensa. Sono quasi due gocce d'acqua. Ed è bellissima. Tale come la somiglianza esige che Maria non debba essere se non dov'è il Cristo. Cioè, bellissima questa cosa qui, anche le implicanze teologiche e spirituali, non ci può essere separazione tra Cristo e Maria. E quando Gesù stava facendo la vita pubblica, quando Gesù stava facendo la vita pubblica, erano separate, le umanità di Cristo e della Madonna non stavano sempre insieme, ma loro, i loro cuori e i loro animi erano in, come dire, incestantemente fuse. Durante la passione, certamente, Maria non ha assistito a ogni particolare della passione. L'ha seguita, diciamo, con molta attenzione. Certamente in alcuni momenti è stata proprio sensibilmente e fisicamente vicino al figlio, ma stiamo tranquilli che l'ha vissuta tutta per figlio e per segno dentro il suo cuore. Senza nessun dubbio. Anche dopo l'ascensione di Gesù, certamente il cuore di Maria stava in cielo e il cuore, attraverso sicuramente almeno l'Eucharistia, anche il corpo del figlio stava a fianco e dentro sua madre. Ecco, ma c'è questa inseparabilità che è anche vera da un punto di vista spirituale. Cioè, dire ma questo è troppo devoto alla Madonna e poi si scorda di Gesù Cristo. Se uno tiene presente bene questo principio, cioè uno che incontra veramente la Madonna e che pensa veramente alla Madonna, non a una caricatura della Madonna, no? A una falsa devozione mariana, è impossibile che non incontri il nostro Signore Gesù Cristo. perché, cioè, è più facile separare, scendere un animo, quindi scendere un atomo, scusate, fare una bomba atomica, che è una cosa molto difficile, piuttosto che separare Maria da Gesù. È impossibile. Quindi, impossibile. Poi, questa è la prima cosa, cioè sono talmente somiglianti, talmente simili quanto la dignità dell'anima e del corpo, che non possono stare separati. Non è possibile. Le separazioni potevano essere soltanto temporanee e mai piene. D'accordo? Ma la sorte di Gesù e di Maria è di stare insieme, l'uno accanto all'altro. Dove l'uno è l'altra, dove l'altra è l'uno. D'accordo? Ecco, per esempio, in qualche apparizione mariana, la Madonna ha detto, io sono dovunque si celebra la Messa. Non c'è nessunissimo dubbio. Cioè, un prete che sale a celebrare la Messa, cioè può essere proprio sicurissimo che lì a fianco all'altare trova la Madonna. E chi va a Messa può stare proprio tranquillissimo, d'accordo? Che trova la Madonna. E attenzione, però, pure il contrario, secondo me. Chi dice il rosario può stare tranquillo, che dentro il rosario trova Gesù Cristo. D'accordo? Non trova, come dire, la devozioncella, come qualcuno dispregiativamente pensa, la devozioncella da vecchiette, un po' analfabete, illetterate, che biascicano il nome della Madonna e invece bisognerebbe essere molto più attenti a Gesù Cristo. Come a volte, insomma, si sente dire con molta grossolanità in certi ambienti, a volte anche con la buona intenzione, per carità, di dare gloria a Cristo, insomma, ma le buone intenzioni non bastano. Bisogna vedere se anche i modi con cui si cerca questa gloria, i mezzi, sono opportuni. Questo certamente contrapporre o addirittura separare o anteporre cose di questo genere è del tutto fuori l'uomo. Dove è l'uno è l'altro e dove è l'altro è l'uno. Poi c'è il secondo argomento, bellissimo anche questo, no? In cielo Gesù portò l'umanità glorificata, ma l'umanità di un maschio. Un maschio, un uomo. D'accordo? Se uno non vuole fare riferimenti sessuati, anche se Gesù e Maria sono esseri, attenzione, essessuati, sono vergini e castissimi, ma sono maschio e femmina. Cioè, la coppia Gesù e Maria, questo è un altro argomento teologico molto forte, è la nuova creazione della coppia Adamo-Eva, cioè la creazione dell'umanità. Ecco perché per noi cattolici è così importante come dire, il dimorfismo, la differenziazione e anche la complementarietà fondata sul piano creativo di Dio tra uomo e donna. Ecco perché esiste soltanto la famiglia fondata tra un uomo e una donna. Non è una posizione di principio o che voglia essere discriminatoria, è un prendere atto del disegno creativo di Dio pienamente confermato nell'opera della redenzione che vede schierati a fianco Gesù e Maria come nuova Adamo e nuova Eva e non solo come madre e figlio perché basta leggere i commenti al Cantico dei Cantici del Padre e dei Padri della Chiesa e dicono quel libro che ad una visione insomma spaventa un po' perché quello è il linguaggio una lettera d'amore di due innamorati con linguaggi in certi passaggi anche abbastanza forti se lo vado a leggere insomma se si vuole andarla a vedere qualcuno era scandalizzato e dicevo questo lo togliamo dal canone lo togliamo dal canone questo descrive i rapporti di amore tra Gesù e Maria in primis poi tra Cristo e la Chiesa in secundis che sono come dire fondati analogati come analogato un princeps su quelli tra lui e la madre e poi anche quello tra Cristo e la singola anima che si apre veramente al suo amore e corrisponde al suo amore d'accordo quindi allora se sta in cielo il corpo umano maschile glorificato ma dove sta in cielo pure il corpo umano femminile glorificato e quindi e da subito perché esente ed immune da colpa d'origine e quindi era conveniente che il corpo glorificato di Maria Santissima fosse in cielo a fianco a quello del figlio dove anche nella bellezza perché la bellezza del corpo maschile e del corpo femminile noi purtroppo siamo segnati dalla colpa d'origine quindi non siamo in grado sempre di pensare in maniera purtroppo non non impura non in qualche modo sporcata non diciamo alla bellezza della creazione ma se uno ci pensa il corpo umano l'ha creato nostro signore d'accordo quindi la distinta e differente bellezza del corpo maschile il corpo maschile generalmente è statuario quindi con espressione della virilità pensiamo anche alle grandi statue che sono fatti quindi alto con i muscoli ben definiti proprio l'espressione della virilità è invece la distinta espressione della femminilità che ha un'altra modalità di bellezza non appunto la virilità ma la femminilità che è un'altra cosa e capite conseguenze anche di questi principi che è stata sempre cura e lo dovrebbe essere anche adesso e credo insomma che anche le correnti psicologiche come dire buone non viene altro termine non possono non convenire cioè un compito educativo fondamentale anche della fede insegnare agli uomini ad essere uomini ad essere donne cioè a valorizzare la bellezza che portiamo dentro di noi in quanto creature maschi e femmine che sono differentemente belle e complementariamente belle capite io lo capisco che dentro il nostro contesto culturale tanti discorsi possono fare difficoltà però occorre sempre cercare di porsi dinanzi ai problemi in maniera il più distaccata e il più oggettiva possibile quindi pensarli anche in un certo modo capite infine terzo argomento anche questo sembrerebbe non importante ma insomma voi sapete che specialmente in certi periodi della storia della chiesa c'è stato un grande culto alle reliquie soprattutto dei martiri ma anche dei santi d'accordo le reliquie anche molto grandi nella mia chiesetta nella cappella delle reliquie c'ho delle tipie insomma grosse cioè grosse non era la reliquietta il frammentino di osso dentro la piccola teca c'è certe reliquie di primo grado che bisogna stare pure c'erano proprio le ossa d'accordo quindi la venerazione delle reliquie è stata sempre una sana tradizione della chiesa certo suscettibile purtroppo come tutte le cose di dar luogo ad abusi a travisamenti questo è stato per le reliquie per il culto della madonna per il culto dei santi perché purtroppo fatta la legge è trovata sempre l'imbroglio insomma perché purtroppo il diavolo il culto delle immagini pensate al marasma che successe nel primo millennio con l'iconoclastia c'è un concilio il concilio di Nicea II che dovete dire ma per carità le immagini si possono venerare ma senza farne un totem senza farne un idolo perché si venerano non per se stessi ma perché rappresentano Gesù e Maria che è la logica dell'incarnazione quindi certo che è sempre possibile esagerare ma il culto delle reliquie di per se stesso è una cosa santa d'accordo perché nel martire è presente Cristo d'accordo quindi ecco e come mai che non ci stanno le reliquie del corpo della Madonna altri chi è che ha mai visto una reliquia con Ex Ex Ossibus Beate Maria Virginis nessuno come mai c'è qualche reliquia con i frammenti di diaboli della Madonna io ho visto con gli occhi miei reliquie del velo di frammentini piccoli del velo della Madonna ma non corpore come mai quindi San Bernardo che scrive in un periodo in cui grande era anche il culto delle reliquie dice se non ci stanno le reliquie figuriamoci no della Madonna figuriamoci se che significa significa che il corpo della Madonna non c'è perché per averci una reliquia c'è deve essere un cadavere e le ossa da cui tu prendi un frammentino lo confessioni in una tega questa è la reliquia di San Cosma la settimana scorsa è stata la festa dei Santi Cosma e Damiano i due grandi medici di cui siamo molto devoti qui da queste parti e ci stanno le reliquie insomma come di tanti altri santi e martiri ne stanno una marea autenticate com'è che non ci stanno per la Madonna quindi questi sono gli argomenti molto interessanti di San Bernardino poi abbiamo un altro grande dottore che è San Roberto Bellarmino un po' più avanti quindi siamo nel XVI secolo cosa scrive aderendo al consenso dei cristiani trasmesso dai secoli passati San Roberto Bellarmino qui sto di nuovo citando esclama e chi prego potrebbe credere che l'arca della santità il domicilio del verbo il tempio dello spirito santo sia caduto abborrisce il mio animo dal solo pensare a quella carne virginale che generò Dio lo partorì l'alimentò lo portò o sia stata ridotta in cenere o sia data in pasto ai vermi perdonatemi cosa che dobbiamo rassegnarci capite dobbiamo rassegnarci ma la chiesa ci ricorda ogni mercoledì delle ceneri ricordati che se polvere in polvere ritornerai e anche se questa frase oggi spesso viene sostituita dall'altra parimenti legittimi che convertiti e credi al Vangelo ciò che Dio disse ad Adamo è legge indiscussa nessuno ha fatto eccezioni nessuno tranne due ricordati che se polvere in polvere ritornerai o addirittura pasto ai vermi quando non c'è la nostra bella bara come dire asettica pressurizzata sterilizzata eccetera eccetera che ti mettono sotto terra così come stai facendo un tempo prima che si diventi ossa si dà da mangiare un pochino di nostri fratellini minori piccolini vermi che si fanno un po' di abboffate delle nostre carni ahimè senza anima questo ecco non è certamente un qualche cosa io invito cioè voglio vorrei insomma ecco essere essere contattato via mail o tramite telefonata da chi è contento di questa prospettiva insomma che un giorno questa nostra chiunque ascolta queste cose è ancora vivo io che le sto dicendo sono ancora vivo quindi se uno dovesse pensare ma sai un giorno c'è qualche vermicino che deve invitarla a pranzo dico senti un po' ti mangi la mano sinistra gli amici tuoi gli facciano mangiare la mano destra insomma chi è contento di questa prospettiva di dover tenere un banchetto come dire un banchetto a favore dei nostri fratellini minori fatto dalle proprie carni alzi la mano insomma ecco o chi insomma quello che è insomma questo nostro corpo questa abitazione sulla terra che si porta tante miserie però insomma meglio un corpo tanto misero che un mucchietto di cenere insomma no anche se oggi qui mi scappa proprio la battuta ironica mi scappa proprio insomma purtroppo mi è scappata mi sta per scappare la dico anche se qualcuno oggi ci goda a diventare un mucchietto di cenere nel senso che se fa bruciare subito così diventa cenere prima del tempo insomma con una cosa insomma che il cardinal Müller insomma con la benedizione di papa francesco insomma prima di cessare dal mandalo di prefetto della congregazione dell'ottina della fede ha scritto una bellissima istruzione insomma in merito alla cremazione oggi così sempre più sciaguratamente diffusa anche tra i cattolici dove si spiega che il fatto che a certe condizioni a certe condizioni la chiesa lo permetta attenzione a certe condizioni lo permetta non significa né che lo raccomanda né che lo benedice né che ne auspica come dire la liberalizzazione in sostituzione all'inumazione in quanto di per sé la pratica della cremazione di per sé a meno che non ci siano motivazioni legittime non è proprio molto consona a quello in cui noi crediamo insomma che il corpo diventi genere a causa della mineralizzazione progressiva è perché questa è la sorte che ci trovi è un discorso che ce lo faccio diventare 24 ore dopo la morte insomma compiendo questo gesto insomma che poi da molti è stato sempre è stato spesso non sempre polemicamente vissuto come sfregio al dogma della risurrezione in altro conto senza dimenticare che la pratica della cremazione era in uso presso i pagani e che sono stati cristiani a inventarsi i cimiteri basta vedere le catacombe romane e basta andare a Pompei non da me a Pompei dove ci sono gli scavi antichi dove ci sono i cimiteri romani dove c'erano non le lapidi ma c'erano i contenitori per le urne cinerali perché i pagani ordinariamente terminata la vita si facevano bruciare perfettamente logico e consono ad un pagano no? ecco quindi San Roberto Bellarmino dice queste cose che ci fanno repulsione e quindi siccome ci fanno repulsione capite quando deve succedere una cosa brutta qual è il primo pensiero dell'essere umano? tanto deve succedere più tardi succede meglio è no? se vuoi fare repulsione che diventano un mucchio di cenere aspettiamo un po' tanto non c'è sta fretta da farmi diventare un mucchio di cenere no? giusto? se vuoi fare tanto repulsione che devo morire e vabbè c'è sta tempo per morire se non succede tra due minuti uno è pure più contento no? quindi sarebbe un po' così no? ecco vabbè comunque torniamo alle cose serie e all'assunzione della Madonna quindi San Roberto Bellarmino dice ma ti pare che l'arca della santità l'espressione ha il domicilio del verbo guarda che Gesù Cristo ha abitato a casa della Madonna ma non metaforiche non è che ha abitato a casa della Madonna perché abitava a Nazareth chi lo sa se qualcuno sapesse la via cioè le persone che amano gli piacciono anche sapere tutti quanti i particolari che via abitavano c'era una via con civico sicuro non so che c'erano gli ebrei qualcosa c'è stava ma Gesù è proprio abitato dentro la casa della Madonna nel senso che c'è stato dentro è stato per nove mesi dentro il grembo di Maria Santissima cioè c'è un grembo abitato dal figlio di Dio fatto uomo insomma ragazzi cioè e poi il Tempio dello Spirito Santo noi lo evochiamo la Madonna come Tempio dello Spirito Santo no? la Madonna è chiamata la piena di grazia capite? cioè una grazia che non si è mai dileguata San Paolo dice attenzione che voi siete il corpo del Tempio dello Spirito Santo e non profanate il Tempio dello Spirito Santo fa questo discorso quando parla del gravissimo peccato di fornicazione che è sempre un gravissimo peccato anche se oggi non ci vedete più quasi nessuno ma lo è sempre gravissimo peccato di fornicazione cioè la congiunzione carnale al di fuori del matrimonio dice attento che se tu fai questo profani il Tempio dello Spirito Santo che è il tuo corpo se sono un altro di corpi il Tempio dello Spirito Santo fino a quando mantengono la grazia figuriamoci il corpo della piena di grazia che non l'ha mai persa quindi che è arrivata al termine della vita cioè che lo Spirito Santo che ha iniziato a abitare al momento della concezione non l'ha lasciata neanche un istante ci dobbiamo pensare a questa cosa non c'è nessun'altra creatura che è successo questo noi appena concepiti questo insegna la Chiesa anche se spero che tutti ci credano ancora appena veniamo infusi nello zigote contriamo il peccato originale e non abbiamo la grazia altrimenti non potrebbero mai essere battezzati quindi appena concepiti perdiamo la grazia primo incidente poi riceviamo il battesimo ma proprio non perde più la grazia tocca sta tutta la vita senza commettere neanche un peccato mortale c'è stato qualche grande uomo qualche grande santo che ce l'ha fatta insomma non è molto frequente quindi generalmente nella vita anche di una persona ma anche di gente che è diventata poi grandissimi santi ci sono state dei periodi di blackout più o meno lunghi di grazia capito quando un giorno una settimana due anni tre anni dieci anni che ne so invece la madonna la grazia l'ha ricevuta e l'ha mantenuta sempre e integralmente quindi ti pare che giunge al termine della vita terrena una stracolma di grazia che si era stracolma al momento dell'annunciazione figuriamoci al tempo della sua assunzione che la tradizione della chiesa cara sicuramente alle suore che gestiscono la radio cioè che sono francescane la corona francescana l'ha individua in 72 anni cosa molto verosimile insomma sulla base soprattutto delle testimonianze che abbiamo circa l'attività postorica di San Giovanni che non ha cominciato a muoversi se non dopo un certo periodo presumibilmente il periodo in cui non ha dovuto non prendersi più quella della madonna perché la madonna non stava più sulla terra insomma come gli aveva raccomandato Giuseppe la grosse quindi ti pare che questo corpo diventa cibo per i vermi o debba essere ridotto in ceneri quindi è una domanda che una domanda abbastanza retorica per San Roberto Bellavino che ci viene girata davvero no perché possiamo pensare anche se oggi dobbiamo credere al dogma diceva se lo supponiamo per assurdo che non fosse vero ma io posso concepire una creatura del genere che diventa cibo per i vermi o cenere un mucchetto di cenere poi parimenti San Francesco di Saldo può aver assedito che non è lecito dubitare che Gesù Cristo abbia seguito nel modo più perfetto il divino mandato col quale ai figli si impone di nonare i propri genitori si pone questa domanda ma chi è quel figlio che se potesse non richiamerebbe alla vita la propria madre e non la porterebbe dopo morte con sé in paradiso è bello questo qui no? fa capire tante cose attenzione dice se potesse ma Gesù non è un impotente non potrebbe farlo con tutti è certo è certo ma a parte che non tutti sono la sua madre naturale ma perché poteva farlo con la madre perché la madre stava in condizione di poterglielo far fare perché per quale motivo avrebbe dovuto andare al sepolcro a corrompersi colei che non ha mise mai dentro la sua anima il principio della corruzione il motivo per cui ci stiamo nel sepolcro che è il peccato io vorrei tanto essere una come dire un uno spirito diciamo così uno spirito capace di vedere nei cuori e vedere quante volte quando andiamo a un funerale oltre che addolorace certamente per tante cose che è normale che è doveroso uno pensa a questa barra che sto vedendo davanti sopra c'è scritto solo una cosa peccato dell'uomo non c'è scritto nient'altro se no quella cosa lì non si sarebbe mai vista e le imprese funebri sarebbe stato un lavoro non conosciuto tra i figli degli uomini non ci sarebbe proprio stato con tutto il rispetto perché i santi uomini insomma che onestamente si procurano del nessero per vivere attraverso questo lavoro che è un lavoro dignitosissimo però non molto amato purtroppo per offi ragioni ma non ci sarebbe stato non ci sarebbe stato santo Alfonso Maria degli Cuori prosegue Pio XII scrive Gesù preservò il corpo di Maria dalla corruzione perché ridondava in suo disonore che fosse guasta dalla putredine quella carne virginale di cui egli si era già vestito la putredine chiarito però ormai il mistero che oggetto di questa festa non mancarono i dottori sto proseguendo la lettura i quali piuttosto che occuparsi delle ragioni teologiche dalle quali si dimostra la somma convenienza vedete il termine che usa Pio XII dell'assunzione corporea della beata Vergine Maria in cielo rivolzero l'attenzione alla fede della chiesa mistica sposa di Cristo non avente né macchia né grinza la quale è detta dall'apostolo colonna fondamento della verità e appoggiati a questa fede comune ritennero temeraria per non dire eretica la sentenza contraria apro parentesi una sentenza è temeraria quando va contro si dice temeraria quando va contro l'opinione comune degli autori maggiormente probati e questo insomma sarebbe bene ricordarselo nel senso che prima di aprire bocca e dare fiato specialmente in campo teologico noi dobbiamo conoscere il pensiero dei giganti cioè tu chi sei per andare contro l'autorità di quattro padri della chiesa per esempio che sono concordi su una sentenza chi te crede esse sono quattro padri della chiesa sono quattro padri della chiesa tu non puoi andare contro l'autorità di per esempio Sant'Agostino Sant'Ommaso e Francisco Suarez su un punto così se non è ancora una verità di fede definita non è detto che quella sentenza sia vera però andarci contro senza solidissime buone ragioni si dice dottrina temeraria poi invece eretica quando una dottrina contraddice esplicitamente a qualche verità di fede negandola impugnandola contraddicendola eccetera proseguo infatti San Pietro Canisio fra non pochi altri dopo aver dichiarato che il termine assunzione significa la glorificazione non solo dell'anima ma anche del corpo e dopo aver rilevato che la chiesa già da molti secoli venera e celebra solennemente questo mistero mariano dell'assunzione l'abbiamo visto l'abbiamo accennato nella puntata precedente tutte quante le festività liturgiche orientali occidentali che già da tempo celebravano la festa dell'assunzione di Maria in cielo dice questa sentenza è ammessa già da alcuni secoli ed è essata talmente nell'anima dei figli fedeli e così accetta tutta la chiesa che coloro che negano che il corpo di Maria sia stata assunta in cielo non vanno neppure ascoltati con pazienza ma fischiati come del tutto vertinaci o del tutto temerari e animati da spirito non già cattolico ma eretico capite quindi chi si azzarda a dire che non è stata assunta bisogna fischiarlo questo lo scrive San Pietro Canisio non l'ha detto Don Leonardo ne ha neanche il Papa insomma quindi deve essere fischiato viene fischiato e lo dice ma proprio ecco bene contemporaneamente il dottore Simio cioè San Pietro Canisio così chiamato come dimostra posta come norma della mariologia che i misteri della grazia il dottore Simio attenzione è scusate ho avuto un lapsus il dottore Simio che è Francisco Suarez non San Pietro Canisio con tutto rispetto di San Pietro Canisio ma il dottore Simio veniva chiamato il grande l'ho appena citato Francisco Suarez una delle più grandi autorità in assoluto che ci sia mai stato in campo teologico grande interprete di San Tommaso grandissimo Gesuita ecco che per secoli è stato come dire veramente un punto di riferimento del pensiero teologico il dottore Simio posta come norma della mariologia che i misteri della grazia che Dio ha operato nella Vergine non vanno misurati secondo le leggi ordinarie è chiaro ma secondo l'onipotenza di Dio supposta la convenienza della cosa in se stessa ed esclusa ogni contraddizione o ripugnanza della parte della Sacra Struttura cioè la Madonna noi non possiamo considerarla e guardarla secondo le leggi ordinarie perché di ordinario nella Madonna salvo la vita comune che faceva con straordinarissima santità ed umiltà nascondendo tutto lo straordinario in cui lei cioè per lei lo straordinario era l'habitat naturale in continuazione ma del resto c'è niente di ordinario niente il suo matrimonio non è ordinario d'accordo perché è stato matrimono sui generis il fatto che è stata concepita senza peccato originale non è ordinario il fatto che è stata fecondata per opera dello Spirito Santo non è ordinario il parto virginale non è ordinario e tante altre cose insomma la pienezza di grazia non è una cosa ordinaria ecco solo per dirne qualcuna perché poi sono molte cose straordinarie in Maria che le conosce lei e la Santissima Trinità giustamente perché vanno custoditi come segreti tra di loro che si conoscono bene e si sono amati perfettamente quindi Suarez dice attenzione i misteri della grazia che Dio ha operato nella Madonna non vanno misurati secondo le leggi ordinari e comuni ma secondo l'onnipotenza di Dio cosa vuol dire vuol dire che se Dio è una cosa se c'è una cosa straordinaria nella Madonna da attribuire all'onnipotenza di Dio cioè se Dio una cosa straordinaria la può fare alla Madonna la fa punto perché in lei non c'è nessun tipo come dire di controindicazione al dispiegarsi pieno della divina onnipotenza a differenza che tutte le altre creature proseguo la lettura escluso ogni contraddizione o ripugnanza da parte della Sacra Scrittura fondandosi sulla fede della Chiesa tutta circa il mistero dell'assunzione poteva concludere che questo mistero doveva credersi con la stessa fermezza d'animo con cui doveva credersi l'immacolata concessione della Beata Vergine e già allora riteneva che queste due verità potessero essere definite stiamo parlando di secolo dunque Suarez tra il sedicesimo e il diciassettesimo d'accordo non molto oltre adesso non non ricordo precisamente posso un attimo fare una dato che stiamo davanti al computer per ragioni di trasmissione vedere un attimino ecco qua 1548 1617 tra il sedicesimo e il diciassettesimo secolo quindi ben quasi tre secoli prima anzi sì tre secoli prima della definizione del dogma dell'immacolata e quattro secoli prima dell'assunzione lui riteneva che già allora potessero essere definiti tutti e due quindi allora ora leggo un ultimo paragrafetto dice per tutte queste ragioni tutte queste ragioni e e considerazione dei santi padri e teologi hanno come fondamento ultimo la saga scrittura la quale ci presenta l'alma madre di Dio unita strettamente al suo figlio divino e sempre partecipi della sua sorte per cui sembra quasi impossibile figurarsi che dopo questa vita possa essere separata da Cristo non diciamo con l'anima ma neppure col corpo con lei che lo concepì lo diede alla luce lo nutri col suo latte lo portò fra le braccia e lo strenzi al petto dal momento che il nostro redentore è figlio di Maria non poteva come osservatore perfettissimo della legge divino non onorare oltre l'eterno padre anche la madre di Letta potendo quindi dare alla madre tanto onore ecco il principio di Suarez può dare alla madre tanto onore e glielo dà preservando Lemuna dalla corruzione del sepolcro si deve credere che lo abbia realmente fatto ora quali sono questi luoghi della Sacra Scrittura concludiamo la puntata odierna con queste considerazioni quella prossima volta cercheremo di chiudere se possibile la trattazione salvo qualche appendice quali sono questi luoghi in particolare va ricordato che fin dal secolo II Maria Vergine viene rappresentata ai santi padri come nuova Eva sempre questo è l'argomento fondamentale Genesi 3.15 quindi il parallelismo tipologico Eva e Maria nuova Eva quindi cosa fa questa nuova Eva riprendo la citazione della bolla strettamente unita al nuovo Adamo sebbene a lui soggetta in quella lotta contro il nemico infernale che come è stato preannunziato nel protovangelo Genesi 3.15 di nuovo questa ti schiaccerà la testa e tu la insiderai in calcagno si sarebbe conclusa con la pienissima vittoria sul peccato e sulla morte sempre congiunti negli scritti dell'Apostolo delle Genti d'accordo quindi l'opera di Gesù era destinata a sconfiggere il peccato e la morte San Paolo e qui dovremmo ricordarlo bene basta leggere il capitolo quinto e sesto della lettera dei romani e la prima lettera dei corinzi tutti i brani citati qui capitolo 15 versetti dal 21 al 26 e dal 54 al 57 quando San Paolo parla della lotta contro il male di Gesù e nel senso della sua missione come dire fa una trattazione congiunta la lotta contro Gesù è contro il peccato che è il pungiglione della morte e contro la morte quindi l'opera di Gesù ha distrutto il peccato e la morte non solo uno senza l'altro perché Gesù ha sconfitto il peccato dove? dov'è che Gesù ha distrutto il peccato? faccio un attimo di pausa così chiunque deve rispondere nel cuore dov'è che Gesù ha distrutto il peccato? nella passione e nella sua morte l'idea di tutto il peccato l'ha inchiodato sulla croce dov'è che ha distrutto la morte il giorno della sua risurrezione non è che c'ho tanto a capillo la morte la distrugge se tu la morte ti prende ti acchiappa e tu la superi la vinci nessuno nessuno può cioè se qualcuno è capace di tornare dal cimiter ecco perché la risurrezione è stata sempre come dire la quintessenza e dell'annuncio del Vangelo capite? a prescindere la vittoria sulla morte è l'atto divino per l'antonomasia allora se questo è il senso del ragionamento se l'opera di Gesù è congiuntamente diretta a sconfiggere il peccato e la morte possiamo dire la Madonna il peccato l'ha sconfitto? sì o no? certo che l'ha sconfitto come? in due modi concepita senza peccato originale e condotta a rotta guanta la vita senza commettere nessun peccato attuale tra l'altro anche se questo è un di più partecipazione alle sofferenze di Gesù in vista della retenzione dell'umanità e della distruzione del peccato giusto? se ha sconfitto il peccato può la Madonna non aver sconfitto congiuntamente anche la morte se l'opera di Gesù è congiuntamente sempre finalizzata a distruggere il peccato e la morte domanda retorica la risposta è no e infatti prosegue Piotr XII per la qualcosa come la gloriosa risurrezione di Cristo fu parte essenziale e segno finale di questa vittoria sulla morte così anche per Maria la lotta che è in comune col suo figlio perché il nemico è congiunto è il signore del peccato e della morte chi è che sta dietro l'uno e l'altro il signore della morte è chiamato Satana nella lettera agli ebrei capitolo 2 colui che è della morte ha il potere sconfiggere colui che è della morte ha il potere cioè il diavolo quindi il signore del peccato l'inventore del peccato potremmo dire è il diavolo perché il peccato originale degli angeli è stato ben prioritario rispetto a a quello degli uomini e il signore della morte è sempre il diavolo quindi perché è attraverso il veleno del peccato che la morte è entrata dentro la razza umana quindi la morte di per sé come dire si capisca bene il senso è il segno del trionfo del diavolo e della sconfitta dell'opera di Dio apparente si capisca bene il senso perché Dio non perde mai ma della momentanea sconfitta cioè fino a quando Gesù non è venuto a compiere l'opera della redenzione e a distruggere la morte noi sembravamo come dire spacciati e se non avesse fatto questo spacciati saremmo rimasti eh d'accordo ecco perché non possiamo noi come dire non gloriarci per certi aspetti della nostra fede pur nel doveroso rispetto di chi ancora non la riconosce come divina cattolica ma noi dobbiamo rannegrarci assai eh di tutto questo quindi così quindi per la qualcosa come la gloriosa risurrezione di Cristo fu parte essenziale e segno finale di questa vittoria così anche per Maria la lotta che è in comune col figlio suo si doveva concludere con la glorificazione del suo corpo virginale perché come dice lo stesso apostolo quando questo corpo mortale sarà rivestito dall'immortalità allora sarà tempiuta la parola che è stata scritta la morte è stata assorbita nella vittoria in tal modo quindi la Madonna ha vinto il peccato nell'immacolata concezione nella vita elibata e la morte nell'assunzione in tal modo l'augusta madre di Dio arcanamente sto proseguendo la lettura unita a Gesù Cristo fin da tutta l'eternità con uno stesso decreto di predestinazione e questo ormai lo sappiamo immacolata nella concezione vergine elibata nella sua divina maternità generosa socia del divino redentore che ha riportato un pieno trionfo sul peccato e sulle sue conseguenze alla fine come supremo comoramento dei suoi privilegi ottenne di essere preservata dalla corruzione del sepulcro e vinta la morte come già il suo figlio di essere innalzata in anima e corpo alla gloria del cielo dove risplende regina alla testa del figlio suo re immortale dei secoli quindi il fondamento scritturistico è il protovangelo e i passi della lettera delle lettere di san paolo romani primo corinzi soprattutto che affermano l'operazione congiunta di Cristo nell'opera della distruzione del peccato e delle sue conseguenze compresa la più grave e l'ultima di esse che è la morte ecco perché Gesù e Maria insieme nella vittoria contro il peccato non potevano non esserlo anche nella vittoria sulla morte bene per oggi ci fermiamo qui appuntamento alla prossima settimana per proseguire e forse concludere la trattazione del dogma dell'assunzione la mia benedizione Ave Maria grazie a tutti